Toleranza zero per gli sporcaccioni. È il grido di battaglia con il quale il comune di Barletta ha deciso di dichiarare guerra a chi sporca la città. Lo ha fatto annunciando una campagna di sensibilizzazione per l'igiene urbana che partirà nel mese di agosto, i cui dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Cosimo Cannito nella sala giunta. L'occasione per fare il punto sulla questione rifiuti e sulle azioni intraprese dall'amministrazione che in collaborazione con Barse e Settore Ambiente del Comune si è fatta carico nei giorni scorsi di interventi di pulizia e lavaggio in diversi quartieri di Barletta. Ma non è tutto, la lotta a chi inquina è già cominciata con una serie di misure predisposte ed intesa con la Polizia Municipale, a partire dalle fototrappole installate in vari punti del territorio comunale che hanno immortalato numerosi cittadini nell'atto di scaricare i rifiuti di ogni genere lungo le strade urbane ed extraurbane, pesantemente sanzionati come previsto dalla legge. Sin dall'inizio del mio insediamento ho intrapreso una lotta contro la inciviltà, contro l'offesa che si riega alla città da parte degli incivili che sporcano la città in maniera indecorosa. Questo ci costa molto, costa molto le casse comunali. Stiamo facendo ordinanze importanti per evitare che ci siano cittadini, che i cittadini incivili continuino a sporcare la nostra città, specialmente in un periodo molto importante, quello estivo, che vede presenza turistica nella nostra città. Stiamo facendo la lotta, intraprenderemo fra un po' la lotta delle azioni canine, perché sporcare la città è davvero un insulto a tutti. E se le molte salate non dovessero bastare a fermare chi sporca, il sindaco ha in mente misure ancora più drastiche. Mi riservo di comunicare i nomi, poi mi facessero anche cause sulla violazione della privacy. Io mi assumo la responsabilità di denunciarli e poi venissero dietro di me a dirmi che ho denunciato perché ho violato la privacy. Prima di tutto loro hanno violato la dignità di questa città e poi venissero dietro, mi denunciassero, perché questo lo farò se loro non la smettono, di, ripeto, di insultare la nostra città.